Su richiesta dei parroci del Decanato di Riva del Garda, il Sindaco Adalberto Mosaner ha decretato di determinare, dopo un periodo di sperimentazione durato più di tre mesi, i nuovi orari per le cerimonie funebri nelle chiese parrocchiali e per i funerali laici e gli altri riti ammessi nei cimiteri cittadini. I parroci hanno informato il Sindaco della necessità di adottare orari e giorni prestabiliti per quanto attiene sia le cerimonie funebri nelle chiese parrocchiali sia le cerimonie attinenti alla tumulazione delle ceneri per una migliore organizzazione del servizio, a fronte di una riduzione complessiva del numero dei parroci sul territorio. I nuovi orari sono già stati sperimentati per oltre un trimestre e si sono confermati funzionali, tanto da ritenerli estensibili in via definitiva anche alle cerimonie e ai riti funebri di qualsiasi natura nei cimiteri cittadini. Inoltre, su sollecitazione degli stessi parroci, sono stati aboliti i cortei funebri a piedi nei quartieri di Varone e Rione de Gasperi e le celebrazioni di funerali nella giornata di domenica previste nelle sole frazioni di Campi e Pregasina, in quanto pratica in disuso da almeno 10 anni.